Avvocato Pingue, parlando di corporate finance, quali saranno le strade più scelte dalle aziende in questo anno? In questo momento, in questo periodo, le aziende più di ogni altro momento hanno bisogno di liquidità da investire in maniera produttiva. Quindi hanno necessità di monetizzare tutti i crediti che hanno nei confronti dei propri clienti. Credo che anche in virtù delle posizioni assunte dalla Banca Centrale, le cartolarizzazioni saranno uno strumento fondamentale. Ritorneranno a essere uno strumento fondamentale, lo sono state, sono state demonizzate per vicende non europee, non italiane. E adesso ci stanno tutte le condizioni che ritornino in auge. Grazie Avvocato.